a inizio della seconda parte della prima missione ecco ho già sparato un colpo occidentale a questo caso smitraglia fuori compara face di merda perché mi curo qui c'ho una pistola mitragliettrice silenziata ma non mi garba qui c'ho raccolto una prendi l'altro fucile che è più figo quale? la mitragliettrice? no io voglio il fucile a pompa è il fucile a pompa che c'è qui ma ce l'ho già ma è diverso? ce l'ho già ho preso quello sopra il tavolo io io bevo quell'altro si sono diversi questa qui è spari e ricarichi ogni colpo apriamo sta porta va? va fa culo prenditi il kit medico ma te ne vai via se... ma ce l'ho già? io non ce l'ho infatti no io ce l'ho non so oh c'è uno c'è uno speciale c'è un qualcuno si ho finito tutto finito tutto oh la pistola aspetta fammi rientrare che ne prendo un'altra mira mi ricordo quando ho fatto mi ero fatto il trigger per sparare in automatico con le pistole nell'arma più devastante e io c'avo il mouse che sparava da solo e io no ho dovuto scaricare farmi la macro guarda lì ho fatto una strage fuoco fuoco everywhere e ho fatto esplodere io un bariletto prendi tubo bomba mi intima di prendere il tubo bomba ho preso dell'adrenalina ho preso le munizioni ho preso fuoco se ti può tutto solo oh c'è un hunter c'è un hunter ecco ovviamente io tra tutte le cose che posso fare è attacco te nel dubbio scusa c'è gente dietro c'è gente vu si li ho visti li ho visti ecco anch'io ahia ahia via 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 get the fuck out vincere un tubo di merda va qui c'è qualcosa vieni qui hai qualcuno che c'ha no no guarda ma guarda un po' ah se lo tiri addosso della gente li attirano si si vengono attirati da quello no certo però puoi tirarlo addosso a qualcuno che diventa tipo il bersaglio tipo se lo tiro addosso al cane è come il vomito del boomer ho trovato dei colpi esclusivi interessano? eh ma no e te che te li dà te li metti al posto del kit medico quindi scegli il kit medico no 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 qua mi ricordo che c'era dietro il camion della roba infatti c'era molotov ma mi tengo c'era il tubo nel più che il vomito qua l'ho visto ma in fondo c'è qualcuno aspetta no perché mi ricordo che c'è un tank da questa parte ah di poi è che cambiano eh quindi sto pronto col tubo cosa gli fa il tubo scusa? eh se lo tiro addosso al tubo si ah si no se li tiro pensavo il tubo pensavo il tubo bomba qua in fondo di solito ah è vero che c'è anche la witch nell'effetto del 2 che figata non c'era anche nell'1 non c'era anche nell'1 vai cos'hai lanciato? ma piante righe merda dottor aspetta ho una tannica ho raccolto una tannica oh oh ma questo cosa fa sotto le scale? tutto solo no l'ho preso l'ho preso l'ho preso si può essere c'è un tubo bomba c'è un altro fusile a pompa eh no lo prendo si ma c'è gente che entra dalla porta dalla porca oh io sto pronto con la tannica eh ho il tiro pronto mi stanno curando perché ah giustamente qua c'è un tank no che cavolo è uno sembrava questo qua di lato sembrava un tank aspetta che c'è gente qua dietro che pensa di passare inosservata qua c'è un tubo uno di quelli che piace a te che no no il giro con la tannica no aspetta c'è un no non c'è nessuno qua dietro il pick up bam c'è una una tannica esplosiva aspetta no mi ricordo qua tiro la tannica ecco io l'ho messa lì per terra deve essere qui inutile ecco mi è esploso in faccia la labbra si no però alimentare devo esercitarmi nel tiro qua c'è un'altra cosa oh wait ancora c'è una tannica lì per terra no non è natale si come non è natale cos'è che cazzo ne so vieni qua che ti inculano eh lo stanno già facendo eh quello che mi incula a me è il ricaricare il morite cos'è oh è partito per aria qualcosa come non è una tannica questa si che è una tannica imbecile non ti sembra una tannica questa che c'ho anche sparato contro ah vieni di qua che c'è il furgone watch out che? watch out che? cosa urla? lo so però mi ha messo in watch out watch out guarda questo l'ho scelta no l'ho scelta io l'ho scelta bastardo eh no qua c'è una 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 crowbar non mi viene in italiano l'adrenalina no non la prendo guarda quanto l'ho lanciato lontano sono un genio devi lanciarlo là guarda ma vedi che li corrono dietro lì sì devi lanciarlo lì perché io ho lanciato lì il mio barile ah so qua si arriva un po' di ho bisogno di un altro coso cioè volevo volevo voglio un altro vomito da tirare perché non volevo spiegare era dietro è là dietro allora vado a cercare l'avevo c'era ma dove? ah no eh no ok questo ciao vieni qui cazzo diamo andiamo c'è che ha inventato i tubi del vomito c'è che mette dei tubi del vomito oh ma non ci prendo dai come puoi correre senza occhi e senza faccia ecco ti ha sputato proprio no non ho preso no 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 momento qua c'era una porta con della gente piena oh chi che rugisce eh non lo so infatti io prima ci tiro su una si quasi eccolo 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 pronto? fai esplodere fai qualcosa mera sono un genio sono un vero genio cioè ovviamente vedete io sono l'unico stronzo che gli rimane lì in faccia a sparargli aiuta loro ma che cavolo in due facciamo più male l'ho ucciso che cazzo è? to vieni qua ma scusa se stavate tutti bene cioè eravamo lì in trash sparargli te eri fuori a farti i cazzi tuoi ma li stavo curando oh ho finito quasi i colpi del fucile oh muori bastardo muori bastardo muori bastardo muori bastardo qua ci sono delle pills oh l'M16 oh cos'è questo? fucile militare io c'ho questo cos'è sembra uno scar ma schifo non mi piace perchè spara raffica voglio l'M16 mi avete fottuto tutti quanti i medici non ce ne sono c'erano soltanto due antidolorifici ah perfetto deposito munizioni vado in giro con una tecnica ho visto che io prendo le munizioni visto che tanto non ho più il kit medico ok e aspetta che spassa una bella cosa beh è una bella cosa non c'era nessuno si più o meno arriva da dietro oh riloggiare 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 io non ho più niente però solo dei nemici doloristici oh qua c'è un tubo bomba ce lo c'è cazzo ma non ne colpiscono neanche mi ricordo che qua c'era qualcosa di cattivo c'era la witch on it chi è quello? un charger c'è mi giro sparo io e la gente muore uh stai fottuti i camicai ma i colpi della m16 finiscono piuttosto in fretta eh devi darci piano bene prendiamoci oh aiuto dove sono finito sono finito gli trovano siete non so dove mannaggia ma cosa ero finito dietro la siepe ero da questa come si fa? ah di qua andiamo andiamo io ho la mia solita tanica che sprecherò nel modo più imbecille guarda io picchio questi con la tanica in mano con la bombola in mano merda morite merda date di sparare la bombola che ho in mano oh chi è questo? ovviamente chi prende ho fatto un chisto della madonna mi sono volato giù di sotto mannaggia mannaggia e adesso ho anche sette di vita e mi sono sparato l'adrenalina e c'è per c'è un boomer mi sembra che bello con con lo lancia granate qua con l'adrenalina va da manetta dov'è il boomer? se hai qualcosa di infuocato da lanciare lancialo adesso dove? eh sto poveretto lo stanno lo stanno falcidiando da su ho qualcosa di da infuocare che strano modo di proteggere che ho gli ho lanciato una bomba addosso dove lancia granate? si è messi tutti uno più sull'altro dove lancia granate? scusa è dentro la porta lì a destra dai potete riprenderlo take the grenade launcher take the grenade launcher io ho ancora le munizioni incendiarie so c'è 22 di vita io ho c'è coach guarda quante ne ha coach è il nero quello che deve morire per primo come asset procre over sento una witch che piange qua da infastidire subito è proprio gliel lo ma bravo pain killer ma cosa? bravo pain killer sono morto pure io siamo in tutti e tre morti è l'unica era rochelle che era viva ho sparato con lancia granate contro la rete mi son fatto malissimo da solo mi sono sparato sui piedi che ti vedico subito e qui e qui muoia lui dove è il nero? vieni qui guarda che range di cura che ho io prendi il fucile da zecchino prendi il fucile da caccia stai tranquillo subito eh decido io cosa fare cos'è questo? ho preso un minino laser un minino laser su un lancia granate qualcosa c'è? quanti colpi ha? aspetta fammi vedere oh lo spasso ho un fucile da zecchino mi ricordo che era letale si ma non mi ricordo quale è più letale cioè anche la k beh ho provo prendi il minino laser che migliorano mira posso prendere il fucile da caccia o quell'altro? io ho un fucile da zecchino quale è il fucile da caccia? quello cambia? eh però mi sembra più potente quell'altro si infatti quale è quell'altro? prendo fucile da caccia prendo fucile da caccia poi monton laser ovunque il mirino laser rende più precisa la tua arma ma posso... posso montare anche... too late ho pisato il bottone ah qua è dove dobbiamo prendere le bottiglie di coca cola si moriremo vera che figata no no dove cazzo è quella desert eagle non lo so mi dice prendi... ah è qui è qui sono qui ah no la magnum è qua si magnum però per il cazzo però però provo si provo questo va we we tucker distruggerò il sistema libera nostro va bene andiamo andiamo mi ricordo vabbè che andarci è una stransata ci si butta da qui ci sei già lì eh no si era un po' scusa vieni c'è niente là da prendere preparati a combattere l'orda sei pronto? no per un cazzo aspetta abbiamo granate qua c'è un barile c'è un giro ad allestire si si ho trovato un barile eh non trovo niente di niente c'ho l'idea vincente non trovo un cazzo aspetta ma non si apriva ste porte una volta che parte? si no ma che è? ma salite no non c'è niente altro c'è lo stato quel barilotto qua noi è dietro di questo piccolo schifo no non c'è niente fine ci possiamo andare non siamo sicuri? oh non c'è niente ho già fatto il giro di tutto io apro dai ti sparo? si sottotiro e questa cos'è? una tubo bomba per esempio che cazzo è che ho avuto il coraggio di chiamarle tubo bomba? nooo vabbè io sto qua a sparare eh qua c'è una molotov ho preso la molotov qua c'è un kit di vita una molotov o la coca cola c'è tanta gente? no non ancora c'è sostenibile eh però dovete uscire dovete uscire ma farle sp... io devo fare tutto il giro e dovete proteggermi vieni dentro e fai esplodere quel coso prendi la coca corri 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 ti copro io ti copro io ti copro io ti copro io muori mera si smarca agilmente il segretario di football professionistico mera la lega si dà il cazzo anche te cazzo oh no ho tirato la coca qualche altro stronzo? l'altro in uno chi arriva? sono carico sono troppo carico andiamo andiamo dove? avanti lì ha fatto esplodere questa? ha fatto esplodere non c'è niente da qua in queste porte qua mi ricordo che c'è qualcosa ah infatti ci sono aperte un sacco di porte ma non c'è un cazzo dentro non c'è niente da qua non c'è niente dove siete? dentro al market c'è qualcosa? ah no ci sono del gran molotov e due kit di vita mi sa ma io ho le munizioni ancora ma le tengo per il mall che là dentro c'è un casino bestiale ma che se lo prendono loro il ah munizioni non me le ricordavo non c'è più l'altro kit di vita l'ho preso io oh oh aiuto ma spara troppo veloce sto si ma cosa quale? il fucile da caccia c'è il fucile da caccia fucile da faccia il faccia da fucile fucile da faccia dai mo andiamo non ho tempo per queste cose spacca i vetri eh merda pensa quando in una ipotetica apocalisse zombie uno arriverà e sparerà nel vetro della macchina bambam 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 aia chi è che mi ha sparato? rrrr sento uno che c'è un boomer non lo vedo lo sentivo anche da prima mi sa che nei rovi giù per di là oh qua c'è un defibrillatore pincate che non ci posso arrivare c'è è esploso vediamo qua dentro cosa c'è qua dentro c'è un altro fucile da caccia io piglio una bombola c'è una bombola si ma hai molato il tuo fucile da caccia con laser e vabbè ah perchè quello li eh perchè ci aveva mi erano rimasti poche colpi ma che cazzo dico è un casino ancora tengo questo don't shoot that car oh c'ho quelle che slampeggiano ah lo so io no perchè chi è che ha lanzato quella molotov lì? è io ah sei pazzo vicino alla macchina? si ma non esplode per quello cioè se si spari contro mi hanno preso mi hanno preso aiuto mi hanno preso dov'è lo smoker? non lo vedo fai fuori quelli che mi stanno sparando adesso fai fuori quelli che mi stanno sparando adesso caccia caccia cioè non sei affidabile uno ti lascia un attimo lì si ok ciapa sul barilotto si la bomba là aspetta qui qui andato c'è uno stronzo oh adrenalina bam preso oh yeah qualcosa c'è un altro fossile da zucchino non c'è tipo uno scar ecco munizioni che rimane bom adesso c'è la rochelle attenzione fine anche della seconda parte non c'è non c'è una seconda parte l'armi